ciao fregoline nuovo video dei gratte vinci allora se mi vedete vestito uguale nell'altro video precedente e perché sto registrando i video praticamente insieme perché così a meno faccio un video unico allora questa volta ho preso simboli del miliardario questo qui e ho preso ancora il turista per dieci anni volevo dato che c'era questo solo da due ne ho presi ne ho preso un altro uguale identico anche questi 2 euro 2 euro 4 euro praticamente due gratte vinci per cui prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video quando escono lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video un commentino qua sotto e mi raccomando seguitemi su instagram che lì vi metto qualche spoiler dei gratte vinci quando li prendo così almeno sapete quale gratte vinci ho preso in questo mese di agosto detto questo se avete fatto queste cose che vi ho detto andiamo a vedere se vinciamo allora io direi di iniziare dal turista per dieci anni e poi facciamo l'altro vediamo se questa volta porterà un po di fortuna allora vi avvicino un po vediamo se riuscite a vedere ok proviamo il primo 14 16 e 21 questi sono i tre numeri che abbiamo noi vediamo se li troviamo sotto nel nella casellina allora qui abbiamo un 19 che non ce l'abbiamo un 23 che non ce l'abbiamo 31 neanche 41 non ce l'abbiamo il 42 ma neanche questo ce l'abbiamo poi 20 abbiamo al 21 che sfiga 22 neanche perché abbiamo un 21 33 neanche questo e per finire il 43 a manca il bonus mi stavo dimenticando il bonus prima che poi sotto nei commenti e ma non è grattato il bonus 35 niente per cui niente bonus anche questo gratte vinci diciamo che è perdente proviamo con questo vediamo se riusciamo a recuperare o più di 4 euro o almeno 2 euro proviamo questo iniziamo da qui abbiamo una moneta è un po complicato grattare poi andiamo sotto e abbiamo un ferro sotto una stella allora praticamente dobbiamo trovare i simboli o per così o diagonale o orizzontale proviamo ad andare dritti qui abbiamo un'altra moneta per cui se abbiamo un'altra moneta cioè la terza moneta vinciamo wow abbiamo preso tre moneta però io direi di grattare prima tutto e poi vedere praticamente il premio allora direi di andare sotto sotto abbiamo una stella poi sotto abbiamo un lingotto e poi qua sotto abbiamo il ferro vediamo il bonus il bonus è un lingotto ok per cui vediamo cosa abbiamo vinto perché abbiamo trovato le tre monete allora premio 5 euro cioè abbiamo vinto 5 euro perché noi abbiamo fatto praticamente l'orizzontale e abbiamo vinto 5 euro io sono curiosa di vedere anche verticale e diagonale perché a me piace allora diagonale 50 euro invece verticale 200 beh dai ho recuperato un euro in più però non male perché 5 euro cioè sono sempre 5 euro direi che mi è andata bene per 5 euro è buono come come soldi per cui direi che questo è vincente finalmente altri 5 euro allora 5 euro non sono male perché sono sempre 5 euro per cui non ho recuperato chissà quanto perché ho recuperato chissà quanto perché un euro in più vabbè però è come se non gli ho spesi i soldi perché 5 euro quello pagati 4 e niente questo è vincente ci ha portato fortuna cioè io dico così perché ovviamente guardate questo video è come se voi siete con me in poche parole per quello che dico così per cui direi che questo è fortunato non è male è carino e invece questo è perdente a parte che non è che mi piace così tanto questo gratte vinci di turista giocando due volte prendendo due gratte vinci uguali a questi quindi ho sempre perso per cui secondo me ho portato un po di spiga invece questo non è andata diciamo è andata bene perché alla fine dai qualcosina ho recuperato per cui sono stata leggermente un po' fortunata a confronto nell'altro video comunque detto questo il video finisce qua spero che vi è piaciuto questo video detto questo vi ricordo comunque di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciarmi un like così farò altre tipologie diverse ovviamente di gratte vinci e vi aspetto anche su instagram detto questo noi ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video ciao